Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Luca Toselli, Nerd e Retro. Come al solito siamo tornati con un unboxing, come al solito siamo tornati a parlare di carte collezionabili. In questo caso, ancora una volta, di carte Pokémon. È un argomento che apprezzate tanto, è un argomento che mi diverte, è un argomento che come al solito vado a riproporvi. Voglio ringraziarvi, perché comunque gli ultimi video stanno andando molto bene. Ho visto che anche nei commenti state apprezzando questo cambiare, spesso e volentieri, tra carte, tra video diversi, tra video in cui vi racconto cose, tra video lunghi, tra video corti. Mi piace davvero molto il modo in cui ho approcciato questo canale e quindi cercherò sempre di farvi avere almeno un video a settimana, anche se è molto difficile. Diciamo che oggi ero libero e quindi mi porto avanti. Anche nelle prossime settimane vedrete questa felpa gialla perché oggi cerco di registrarne quanto più possibile. In uno degli ultimi video che ho caricato, proprio qui sul canale, vi ho parlato di Gengar. Eccolo qua, ve l'ho mostrato. È una carta gradata che ho acquistato, una BGS9, di una carta bannata di Gengar. Se non avete ancora visto il video in questione, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Potete andarvelo a vedere, potete andarvi a sentire perché ho acquistato questa carta. Ma soprattutto potrete capire oggi, in questo video, perché questa carta ha in effetti sbloccato qualcosina dentro di me e ha iniziato a farmi ragionare sul fatto che una collezione di Gengar andava ufficialmente iniziata. Gengar è un Pokémon meraviglioso, non vi ne ho mai fatto mistero, Charizard è il mio preferito, ma probabilmente oggi Gengar è quello che mi ha colpito di più. Tant'è che me lo sono addirittura tatuato su un polpaccio. Adesso qualcuno non ci credeva, invece sì, ho assolutamente fatto un tatuaggio di Gengar sul polpaccio, mi pare ormai un anno fa, ed è sicuramente stata una scelta che mi è piaciuta un sacco. Però vi avevo anche detto, quando avevo aperto questo canale, che non c'erano tantissime carte di Gengar che mi piacevano a livello di artwork. Ecco, questa cosa è cambiata in realtà nel tempo e devo dire la verità, ci sono diverse art di Gengar che ho rivalutato un sacco e anzi forse quasi tutti le art di Gengar le ho rivalutate perché rimane un po' più meraviglioso, che può essere portato in più stili di disegno. E quindi ho deciso di iniziare una vera e propria collezione di Gengar, l'obiettivo è avere una carta per ogni artwork di Gengar esistente. Lo so, è una mezza follia, ci sono carte che costano tantissimo, davvero tanto, ci sono delle promo che costano tantissimo, davvero tanto, ma pian pianino magari riusciremo a riempire una pagina del raccoglietore. E dato che ho già alcune carte, ho deciso di iniziare ad acquistarne altre. Probabilmente la volontà di iniziare a collezionare artwork di Gengar nasce proprio da questa carta qui, che è la vendetta del professor Ack, l'impostore che vi ho mostrato l'altro giorno, dove è presente proprio il Gengar che ha dato origine all'artwork, logo di questo canale YouTube. E quindi ho detto, vabbè dai, facciamo un po' di robetta. Prima di parlare di Gengar però, devo dirvi che ho fatto anche un altro acquisto e ora andiamo ad aprire questo pacchetto che è arrivato. È un acquisto di Vinted ed è stato finalizzato l'altro giorno per colpa di un video che ho visto su YouTube. Un unboxing, un pack opening di un'edizione abbastanza retro, come questo canale. Tant'è che mi sono trovato nei commenti un ragazzo che mi ha detto, perché non spacchetti XD Oxys? Perché non sono multimilionario, probabilmente. Quei soldi non posso assolutamente permettermeli per comprare un box. Oh, guarda che carino. Un bellissimo bigliettino per l'acquisto. Però l'altro giorno ho visto un video di Federic in cui aprivano appunto XD Oxys e ho trovato una carta in particolare all'interno di quel video che è stata veramente bellissima. Sono dovuto andare a cercarla un po' su tutte le piattaforme e poi su Vinted l'ho trovata. Non è nemmeno in pessime condizioni. Guardate il retro di questa carta. Anzi, per una carta di questo tipo credo che sia assolutamente cosa buona e giusta. E quindi io vado a girarvela e vi mostro appunto Deoxys con lo stamp DX Deoxys. Guardate qua che carta meravigliosamente bella a livello estetico. Guardate come brilla bene. È una carta che non ho nemmeno pagato tantissimo. Quindi tanta tanta roba. Sono super soddisfatto di questo acquisto e di questa carta che ragazzi è veramente giù di testa. Togliamola dalla sua protezione, facciamola vedere anche in top loader e cerchiamo anche di togliere la top loader in realtà. Guardate quanto era protetta. Bravissimo il ragazzo a spedirla così. Un ottimo imballaggio. E qua possiamo veramente ammirarla in tutto il suo splendore senza nessun tipo di plastica davanti. Guardate che foilatura della Madonna lo stampa il nome in oro. E sarà qualcosa che andremo a rivedere anche in questo stesso video. Però è veramente con la galassia dietro una carta allucinante. E andremo a rivedere questo tipo di foilatura proprio all'interno di questo nuovo pacco che è appena arrivato. È fresco fresco. È l'ultimo pacco arrivato a casa Toselli. E quindi andiamo subito ad aprirlo. Cose strane. Un po' particolari. Però andiamo a vedere che cosa contiene anche se io lo so già. E appunto dato che abbiamo parlato di Gengar e abbiamo parlato di questo tipo di foilatura abbiamo un Gengar di questa tipologia. Vado subito a tirare fuori la carta dal cartone. Abbiamo una busta gialla in cui si intravede il back delle carte Pokémon. È una carta Pokémon in italiano. Ve la vado a girare senza aspettare troppo perché stiamo parlando di un Gengar. Ovviamente se dobbiamo fare la collezione dobbiamo iniziare a qualche parte. Con lo stamp di La Leggenda di Mew. Quindi anche qui il nome in dorato. Quindi la bustina gialla diciamo che fa riferimento allo stampa. Il nome in giallo è molto molto in tema. Anche questa è una carta che non ho pagato tanto. Questo è un ordine che viene direttamente da eBay. Una carta interessante. Non l'artword di Gengar più bello del mondo. Però volevo assolutamente aggiungerlo alla collezione dato che è un tipo di foilatura di olografia. Dato che stiamo parlando di carte Pokémon. È abbastanza particolare e devo dire la verità non male. Io non sono fan di tutti i tipi di stamp sulle carte. Perché alcuni sono veramente grossi. Sono dei patacconi che sono molto molto invadenti. Vanno a rovinare l'artwork. Ma quando sono così piccolini o in tema come quello di Deoxys. Secondo me sono cose che ci stanno anche perché oggettivamente la carta con il nome in giallo olografico è molto 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 più bella. Fermati subito però perché se ti piace Gengar o comunque semplicemente ti rilassi a guardare e ascoltare questi video unboxing. Beh metti un like, iscriviti al canale e lascia pure un commentino qui sotto. Ti aspetto. Però appunto parlavamo di una carta per ogni artwork di Gengar presente nel gioco di carte collezionabili. E allora sono andato a riesumare tutti quelli che possiedo e ora andiamo a vederli insieme. A partire da quello di Fossil che è il Gengar originale. La prima versione di Gengar delle carte. Non è proprio il mio Gengar preferito. Questo tra l'altro l'ho tirato fuori dalla mia collezione inerente alle Unlimited. Mi piacerebbe prenderne uno in prima edizione in italiano. Anche perché mi piacerebbe farlo tutto in italiano. Questo raccoglitore dedicato a Gengar viene da sé che appunto questo non sarà presente per ovvi motivi. Non è una carta da raccoglitore e non è nemmeno una carta in italiano. Quindi anche questo andrà riacquistato in versione italiana. Poi abbiamo questo Dark Gengar. Anche questo da acquistare in versione italiana. Questo faceva parte della mia collezione veramente da tempo immemore. Devo dire la verità è un'altra carta che ho rivalutato tanto negli anni. Perché questo artwork non mi piaceva e invece adesso devo dirvi la verità è un artwork che trovo molto molto simpatico. Molto molto impattante per essere un Gengar. Una bella ombra buttata lì. È abbastanza astratto diciamo così. Però al suo perché. Ma dobbiamo acquistarlo in italiano. Questo l'avete già visto. L'idea era quella di mandarlo a gradare. Invece ora viene riciclato e viene utilizzato all'interno di questa collezione di Gengar. Verrà messo insieme agli altri nel raccoglitore. È una carta tenuta anche in ottime condizioni. Quindi torna assolutamente buona. Questa è una carta che ho da tanto tempo. È una carta che non mi ricordo se ho sbustato io o se mi è stata scambiata. Ma credo che mi sia stata scambiata veramente ai tempi del 2004. Quindi questo dovrebbe essere Exoros, Fuoco e Verdefoglia. È una carta che ho visto che ha anche un buon valore. Purtroppo non è tenuta in ottime condizioni. E addirittura ha dei segni rossi sul back. Il back è abbastanza rovinato. Ahimè purtroppo. Sul front invece andiamo. Oddio è caduto nuovamente. Ma per fortuna non si è fatto niente. Sul front andiamo molto bene. È una carta che all'epoca da piccolo mi piaceva un sacco. E che quindi probabilmente mi sono fatto scambiare. Non ho ricordi di aver sbustato questo Gengar in realtà. Anche perché con queste carte qui che vengono da così tanto lontano del tempo. Magari ogni tanto dici ah sì ok l'ho trovato lì ah no me l'ha andato là. Non con tutte le carte riesci ad avere questo legame dei ricordi. Che ti possano riportare alla mente il momento esatto in cui sono state ottenute. Con alcune sì. Con quelle più storiche sì. Con altre invece è abbastanza difficile. Poi qui abbiamo invece questo Gengar che abbiamo vinto in un'asta di Facebook. Che abbiamo sbustato qualche settimana fa proprio qui sul canale. Non è niente di che. Va presa la versione in italiano per forza di cose. Però non mi dispiaceva. E poi abbiamo quello di 151. Quello di 151 è un Gengar che ho abbastanza trattato male all'inizio. Perché dicevo cavolo in 151 non si sono impegnati eccetera eccetera. Però va il discorso che ho fatto per Dark e Gengar. È un'ombra alla fine. Alla fine è un'ombra. E poi ho letto anche che qualcuno si è arrabbiato perché ho scherzato con dei disegni di comiglia. Chiedo umilmente perdono, chiedo scusa. Però l'ho rivalutato. Nella sua semplicità alla fine non è per niente male. Non è il miglior Gengar secondo me delle carte. Però alla fine non è per niente male. E quindi al momento siamo messi così ragazzi. Siamo ancora un po' indietro. Ci sarà altro da fare. Però vi dico anche che non abbiamo terminato qui l'esposizione dei Gengar. Perché? Perché non so se da voi piove oppure no. Se c'è bello, se c'è brutto, quello che è. Da me piove. E ieri mi è arrivata una lettera che mi sono ritrovato nella buchetta. Tutta fradice a zuppa. E quindi non ho potuto attendere di aprirla insieme a voi. Però ho voluto fare il video per testimonianza. Per capire se c'era stato uno scam oppure no. Dato che era un ordine, mi pare, di eBay. Un ordine di eBay. E poi ho detto, nel caso lo ripropongo ai ragazzi all'interno del video. Quindi questo è il primo unboxing retroattivo che vi metto proprio ora. E qui in sovrimpressione potrete vedere che c'è questo unboxing di questa carta, questa busta, molto bagnata, eccetera, eccetera. Io non so quanto ancora dovrò parlare. Proverò magari a velocizzare la clip per farla arrivare esattamente a questo punto. E all'interno, ragazzi, c'era questo signore qua. Gengar di Sky Ridge. Ora, la versione olografica costava troppo. In questo momento costava troppo. E diciamo che abbiamo fatto delle belle spese ultimamente. Però ho trovato questa versione reverse. Quindi comunque olografica, ma non olografica del tutto. A un ottimo prezzo su eBay. E quindi ho deciso di accapparrarmi questa occasione qui. È una carta tenuta anche in buone condizioni. L'artwork di Gengar, comunque, lo abbiamo portato a casa e possiamo aggiungere anche questo alla nostra collezione. Guardate che questa è una carta veramente molto bella. Adesso provo a togliervela dal top loader. Cioè, guardate quanto è bella l'olografia delle reverse di una volta. Guardate quanto si torna indietro nel tempo. Questa veramente ti fa respirare aria nerd e retro per definizione. E l'artwork è oggettivamente molto 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 bello. Questa è del 2003. Quindi siamo molto vicini al Gengar EX di prima. E ragazzi, queste sono tutte le carte che per il momento possiedo con la figura di Gengar. A partire da quella addestramento del Team Rocket. Diciamo che come base di partenza sono 10 carte di Gengar. Molto belle. Posso ritenermi ampiamente soddisfatto. Ma non siamo ancora arrivati al termine. Serve un album appositamente per queste carte. Dovranno essere solo loro contenuti all'interno. E credo anche che sarà comunque molto divertente collezionare altri artwork di Gengar. Li vedrete qui in altri video di Nerd Retro. Signori, il video finisce qui. La conclusione purtroppo è arrivata. Anche le cose belle purtroppo devono finire. Però torneremo presto con altri contenuti. Aspetto di sapere quanto siete curiosi di vedere altre cose da aprire. Perché qui ne ho ancora qualcuna. Tra l'altro anche un video un po' particolare con dei prodotti Pokémon contraffatti. Un po' particolare con dei prodotti Pokémon. Salute. Un po' particolare con dei prodotti Pokémon. Un po' particolare con dei prodotti Pokémon. Grazie a tutti.